Il Partito Democratico, dopo l'elezione del nuovo segretario cittadino Giuseppe Di Cristina, venuta domenica scorsa, ha presentato la sua squadra questa mattina durante una conferenza stampa. Si è parlato tra l'altro dell'avvertenza Enigela e di come il PD cercherà di affrontarla. I partiti hanno il dovere di dare rappresentanti alle istanze dei lavoratori e noi per questo abbiamo deciso oggi di chiedere agli organismi regionali e nazionali di intervenire facendo subito l'iniziativa forte, convocando la direzione regionale del partito a Gela insieme al segretario regionale, l'onorevole Ragiti, per essere interpreti di un disagio che questa città non merita. Noi in questo momento dobbiamo stare a fianco ai lavoratori. Il deputato regionale Giuseppe Arancio è entrato nel merito della vicenda che interessa l'ala renziana che proprio domenica scorsa nel corso del congresso ha disertato l'appuntamento preannunciando ricorso per un congresso definito illegittimo etichettandolo come il congresso di carnevale. Noi abbiamo celebrato un congresso in cui erano presenti due circoli per intero e il 50% dell'altro circolo. Quindi è un congresso ortodosso, poi gli altri possono fare quello che vogliono e non ci interessa. Al congresso era presente all'incirca quasi il 50% dell'area renziana perché l'area renziana è un'area vasta, c'era Giacomo Pulizzi, Cirignotta, Luciana Garfi che sono una parte rilevante di quest'area. Quelli che sono rimasti sono l'area che sono vicina a Fasulo, l'area fasuliana, che non capisco perché il congresso era aperto a tutti, c'era un accordo di come procedere, c'erano delle pregiudiziali che erano state poste dal loro leader, che erano state ampiamente accolte. Eravamo nella fase in cui tutto ciò che poteva creare un ostacolo a fare un congresso unitario era stato rimosso. Poi da lì dovevano essere dopo in ulteriore riunione e concordare gli assetti. Però questa finale non c'è stata perché praticamente dopo la riunione la sera stessa i consiglieri comunali hanno disconvermato l'accordo. Il Partito Democratico e Gera è preseduto da Claudia Caizza. Cercherò di mettere a servizio di questo partito l'esperienza che ho acquisito in questi anni a fianco di dirigenti importanti, come segretario di circolo, del primo circolo e sono orgogliosa di affiancarmi alle nuove leve del partito, a nuovi giovani che si affacciano a questo partito per dare un contributo importante. Abbiamo il segretario Peppe Di Cristina ha voluto costruire una squadra nuova, una squadra di giovani, donne e uomini che hanno una loro esperienza, un forte radicamento sul territorio, persone sulla cui serietà e sulla cui rispettabilità non c'è nulla da eccepire e che vogliono spendersi per questo partito.